Potete passare gentilmente, che lei è praticamente i titolari della scuola calcio qui a Cervino, pare che sia una delle realtà gregative più importanti per questi radiazioni di Cervino. Vai Giovinà. Buonasera, mi chiamo Trudina Di Caglio, ho 14 anni, sono nata e vivo a Cervino, insieme ai miei compagno e ai miei tre figli. Sono molto fiera e contenta di far parte della famiglia Viva Cervino, credo convintamente nel progetto e soprattutto nella persona di Filippo Catorani, del quale ho sposato l'idea di abbandonare i dissidi e i contrasti e di abbracciare l'intento comune del benessere del Paese. Qualcuno più importante di me ha detto che chi non può cambiare idea non può cambiare nulla, beh, niente di più vero. Ma come in questi momenti, soprattutto dopo i due anni tragici dovuti all'emergenza sanitaria legata alla pandemia, sento il dovere di mettermi a disposizione della comunità, tanto provata. Sono costantemente a contatto con i bambini di Mestercola, Cervino e Furcha, in quanto gestisco una scuola calcio, che ad oggi rappresenta una significativa forma di aggregazione presente sul territorio. Il pregevole contributo dell'associazionismo non basta perché non ha mezzi, risorse e strumenti idoli. I nostri figli meritano di più e la politica ha il dovere di intervenire, incisamente in questo ambito, dove intendo impegnarmi con tutta me stessa. Al centro del nostro programma ci siete voi, cittadini. Datemi fiducia e insieme a voi sono certa che Cervino potrà finalmente riconquistare l'importanza che merita nel territorio Pasistano. Buona serata a tutti.